Un caro benvenuto al nostro pubblico, Pierpaolo Beretta è il nome dell'autore delle belle opere che vedete alle mie spalle, splendidi paesaggi nei quali domina una pianta, ma andiamo a vedere, a conoscere subito l'autore. Lasciandosi guidare dall'immaginazione e dalla percezione, Pierpaolo Beretta coglie e fissa su tavola attimi di natura. Nei suoi dipinti, paesaggi reali o astratti, esprime le emozioni di un momento. Amore, vitalità, ma anche quiete ed abbandono, sensazioni che sembrano uscire dalle immagini per muoversi nello spazio circostante sulle note di una sensuale e romantica melodia che rapisce lo sguardo e l'attenzione di chi osserva. Il pubblico si trova così catapultato in un'atmosfera quasi fantastica, irreale, in cui il colore accentua la vitalità dell'elemento vegetale, vero protagonista indiscusso delle opere di Pierpaolo Beretta. Piante dall'aspetto maestoso, imponente, dominano su un paesaggio che è invece lunare, a volte anonimo o arido. La natura in primo piano comunica al mondo il proprio messaggio di positività, la natura che è fonte di nutrimento, linfa per ogni essere vivente. Nei colori di Pierpaolo Beretta c'è tutta la forza della creatività, la potenza dell'istinto, la capacità di trasfigurare ciò che è reale per dar forma ad un'immagine che si crea man mano che il lavoro va avanti, si trasforma quando il colore si adagia sulla tavola assorbendo nelle infinite sfumature. Lo sfondo, spesso improbabile e poco realistico, richiama a paesaggi non necessariamente terreni, ma pur sempre veri, vitali. Le sfumature a pennello, i graffi con la spatola accentuano la tridimensionalità dell'immagine e portano lo sguardo dell'osservatore a ricercare la profondità della natura. Grazie